Questa intervista la registriamo ai piedi del castello perché questa risorsa culturale, turistica di livello mondiale, possiamo dirlo, sarà anche protagonista degli European Master Games. Quando mi è stato proposto di ospitare una delle gare, una delle discipline degli European Master Games di quest'anno ho accettato immediatamente perché mi è sembrata una grande occasione per la città e per il suo territorio. Abbiamo una collina straordinaria, una porzione di territorio frequentata dai nostri concittadini, non solo in primavera, in estate per passeggiare, non solo qui al castello. Mi sembra davvero che le gare di tiro con l'arco possano riuscire nel migliore dei modi. Allora stiamo parlando di tiro di campagna, questo tipo di bersaglio per esempio, queste tre, quattro colonne di tre bersagli come si chiamano? Questi sono da 20 centimetri, sono pidocchi nel germine tecnico diciamo, sono quattro perché le piazzole saranno fatte da quattro componenti, ognuno avrà la sua fila. Questi bersagli da che distanza devono essere colpiti? Questi vanno dai 5 ai 20 metri, se ne trovano 8 in gara, questi sono da 40 centimetri, sono gli occhiali, saranno anche questi quattro per bersaglio, due superiori e due sulla parte diciamo inferiore. Anche qui il punteggio per tutte le targhe va dal 6 all'1. Da che distanze? Questi vanno dai 10 ai 30 metri, mentre la targa da 60 centimetri andrà dai 20 ai 45 e l'80 invece che è la più grande andrà dai 30 ai 60 metri. Abbiamo qui con noi un arco compound, è l'arco più preciso di tutti quanti, questo perché ha un sistema di mira fatto da una lente di ingrandimento, da una bolla, da uno sgancio meccanico, si aggancia alla corda e premendo il pulsante la freccia, la corda parte e la freccia va insieme a esso. Poi ha una stabilizzazione anteriore e una posteriore e l'arco con più spinta, infatti questo arco esce circa a 300 piedi e quindi è un arco molto performante. Due giorni di gara, 31 luglio 1 agosto, un grosso impegno organizzativo da parte vostra? È abbastanza impegnativo perché bisogna praticamente tracciare tutti i percorsi sfruttando le pendenze del terreno che abbiamo a disposizione. Questa specialità richiede proprio dei tiri in pendenza. Si tira su dei palioni con delle visuali che cambiano come dimensioni e le distanze sono un minimo 5 metri, il massimo 60 metri. Ogni piazzola è una sorpresa per il concorrente? Bisogna valutare le distanze perché 12 piazzole sono con delle distanze conosciute, 12 piazzole sono con distanze sconosciute. L'atleta deve valutare la distanza prima di effettuare il tiro. Elisabetta Miino, una campionessa delle Paralimpiadi, una medaglia d'argento, si allena in questo impianto della società Arceri delle Alpi. Cosa offre a un atleta come lei di livello mondiale un impianto come questo? La tranquillità di allenarsi in un ambiente accogliente, immagino? Sicuramente la possibilità di stare in un posto al verde, tranquillo, fuori dal caos cittadino e poi una struttura accessibile anche per chi è in sedia a rotelle o qualche difficoltà. Ci saranno anche atleti diversamente abili, questo è importante per una manifestazione come i Master Games? Sicuramente ormai lo sport paralimpico si affaccia su diversi fronti e sono ben contenta che sia presente anche nei Master Games. Io mi riservo ancora qualche anno prima di approdare, però insomma in bocca al lupo.